Eccomi qui in compagnia di un paziente che ho appena finito di trattare, il signor Riccardo. Buonasera. È al terzo trattamento, quindi è diventato un esperto. Stavamo facendo un attimo fa i conti e ha fatto tre trattamenti in nove giorni. Uno prima dell'intervento e due dopo l'intervento. Si è operato di neurinoma, chi legge i miei articoli su internet avrà letto senz'altro anche di questo. E sono qui per fargli qualche domanda. Insomma, adesso dopo tre trattamenti può fare un risponto completo. Quindi mi dica un po', primo, secondo, terzo trattamento, cosa ha sentito? Diciamo che il primo trattamento è stato un po' una sorpresa per me perché come penso molta gente non ha, come si dice, non crede in queste cose qua. Invece devo dire che onestamente mi sono sentito molto rilassato, è stato utile anche in funzione per l'intervento. Mi ha rilassato, mi ha, come si dice, reso più pronto. Chiedo scusa, non riesco a parlare bene. Sì, con un po' conseguenze dell'intervento, ma quelle passano, non si provi. La seconda volta dopo l'intervento ho continuato a sentire dei benefici, mi ha molto rilassato e oggi è stata l'ultima volta, insomma, ho sentito veramente del benedicio a livello fisico, a livello energetico sul trattamento, del trattamento. Mi diceva prima dell'occhio, effettivamente. Sì, quando ho avuto il trattamento nel viso ho sentito come una specie di linea che mi entrava dentro lo zigomo che era diretta esattamente nel punto dove mi hanno operato, penso, o ai mervi dove mi hanno operato. Sì, perché effettivamente, signora, ovviamente è una radio che non potete vedere in questo momento, ha l'occhio che gli rimane un pochettino aperto e quindi evidentemente aveva proprio lì bisogno di un po' di energia. Io adesso chiaramente sono passati un po' di giorni, ma comunque oggi per esempio vi ho trovato che ha la bocca un po' più rilassata, sicuramente perché sono passati i giorni. Io voglio sperare che sia anche un po' di beneficio del reiki, perché mi piace pensare anche così. Sicuramente. Come dicevo, ho sentito direttamente nel punto in cui mi serviva questa incidenza del calore delle mani che entrava dentro. Perfetto. Sono contenta di esserle stata utile. Grazie a lei. Sono contenta che esce sabato e così almeno può ritornare alla sua vita di sempre. Grazie mille. Grazie a lei.